Un'iniziativa, diciamo, caratteristica molto originale che si svolge su tutte le vie del nostro paese con complessine che danno movimento e danno una caratteristica molto bella, molto bella. Originale per le semplici motivi, anche caratteristiche perché anche quest'anno ci occupiamo del sociale, c'è una raccolta fonte per la Caritas. Non si tratta di un semplice aperitivo, una semplice degustazione, ma anche un carattere sociale. L'anno scorso abbiamo coinvolto l'Aism, con una grande riuscita e un grande successo. Quest'anno abbiamo coinvolto la Caritas, quindi saranno raccolti dei fondi a favore delle persone un po' più svantaggiate. Quindi per tale ragione si chiama Solar Street, ma anche per cercare di far socializzare tutte le persone di San Donofrio, ma anche delle frazioni che stanno vicino a San Donofrio. Il programma dell'evento è molto ricco e variegato. Inizieremo alle 16 con l'Aperisport, che è uno spazio dedicato ai più piccoli. Potremo vedere genitori e figli sfidarsi in un match di pallavolo e di basket per l'appunto. Dalle 17 in poi potremo invece fare diversi aperitivi, stuzzichini, nei vari locali. Ad ogni locale quest'anno sarà attribuita una fermata, stile metropolitana. Ad ogni locale sarà associato anche una band, un gruppo musicale diverso. E ospite d'onore, Stellina, che ovviamente ci farà fare tante e tante risate.